Musica L'esplosione della bomba carta davanti alla sala cinesca della bottega del Gusto al via Perriere, di fronte al mercatone, sarebbe avvenuta subito dopo la mezzanotte. Il boato ha provocato paura e tensione tra i residenti, considerando la potenza della deflagrazione. Qualcuno ha anche temuto per una scossa di terremoto e si è precipitato per strada. La notte è di terrore, dovuto al botto della bomba carta di fattura artigianale di piccole dimensioni, che ha divelto la parte bassa della sala cinesca, lesionando i gradini che accedono all'esercizio commerciale. Sul posto gli agenti della polizia, gli uomini della scientifica, che hanno effettuato rilievi all'esterno e all'interno del negozio. Gli investigatori per ora non escludono alcuna pista. Il titolare della bottega del Gusto si è detto sorpreso dall'accaduto di non aver mai ricevuto richieste estorsive o minacce. Si tratta di un piccolo negozio specializzato nella vendita di alimentari, dolci, liquori e prodotti tipici. Una Pasqua amara per la bottega del Gusto, che ha addobbato la sua vetrina con cesse e prelibatezze per la festa. L'attività però certo non si fermerà e anche stamane, nonostante i danni provocati dalla bomba carta, la bottega ha aperto i battenti. Dai commercianti di Via Ferriere l'appello alle autorità a garantire nella zona più controlli da parte delle forze dell'ordine. La notte da queste parti, avvertono, è scura e pericolosa. Stiamo un po' abbandonati, l'amministrazione non è che provvede più di tanto. La sera? La sera non si capisce niente. La terra di nessuno. La verità, in effetti. C'è un po' di paura. E questa è normale, non si può capire così, non si può vivere in questo modo. Cioè siamo abbandonati tutti. La sera se non gira più la forza dell'ordine è chiaro che i malviventi, gente che ha intenzione di fare quelli che ha fatto giù alla bottega del gusto, succede quello che succede in realtà. Non ci sta più controlli, quindi entrano e escono persone che sono poco affidabili, con chi la vogliamo priare. Qua dobbiamo rassegnarci a vivere nel terrore, se possiamo dire. La sera notate che c'è una frequentazione. Sì, ma poi il fattore delle frequentazioni, poi il cambiamento delle luci. Voi avete notato il cambiamento delle luci fatte dal comune? Qui non si vede niente. Qua una volta spento io, se venite stasera, se non accendo le luci, qua è buio. Qua io quando chiudo mi devo stare attento prima di uscire, per vedere se fuori ci sta qualcuno. E dal mercatone esce ancora qualcuno? No, dal mercatone non ho visto niente. Qualche controllo in più nella zona? Ma non solo nella nostra zona, perché qua diciamo che alle spalle è Piazza Libertà, quindi siamo quasi uccindro. Ma le altre parti non so come fanno, onestamente. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo barricare in casa? Dobbiamo portarci qualche armi addosso? Io non so che dobbiamo fare. Io ho l'impressione che questa è tutta colpa della comunità europea. Non ho nulla con il sindaco, nulla con la città, ma è la comunità europea. Che dà la facoltà di sbarcare tutte le persone che giustamente, a metà a metà, a metà che hanno bisogno e a metà che secondo me vengono qua a fare vita facile. Grazie. Grazie.